Benvenuti su Scenari Economici, vogliamo parlarvi oggi di India, di sistema di pagamenti con l'India, di rupie e di banca centrale indiana, la Reserve Bank of India. Questa istituzione ha creato un sistema che si chiama vostro e che permette il pagamento internazionale in rupie al posto del dollaro, quindi si tratta di un passaggio necessario per introdurre nei mercati internazionali la rupia e per permettere alle ziende indiane di abbandonare il dollaro e di effettuare il pagamento dell'import ed export nella moneta nazionale indiana. Ora questo tipo di passaggio non è un passaggio che viene soltanto dicendo ora da domani mi pagate in rupie invece che in dollari o vi pago in rupie invece che in dollari, è un sistema che richiede la creazione di un sistema ad hoc di pagamenti internazionali, il vostro che tra l'altro la banca centrale ha voluto derivare dal latino, se venite sullo sito e leggetto articolo capitolo perché, è proprio questo sistema internazionale di pagamenti. Questo permetterà alle istituzioni finanziarie internazionali e nazionali degli altri paesi di poter effettuare pagamenti senza aprire filiali in India e quindi permetterà una maggiore apertura del mercato sia dei beni sia di carattere finanziario indiano alle istituzioni finanziarie internazionali, europee e occidentali, per esempio tra i paesi che vengono autorizzati ad entrare nel sistema vostro vi è il Regno Unito. Non sappiamo che 38 banche russe sono state già autorizzate a utilizzare questo sistema perché sono dall'anno scorso per facilitare l'interscambio russo-indiano e facilitare per esempio l'import di prodotti energetici russi in India. Questo è un passo molto importante dell'India verso l'abbandono del dollaro, un abbandono che non potrà essere immediato, il successo probabilmente del sistema sarà molto graduale, ma che fa capire bene come Nuova Delhi non voglia diventare assolutamente un satellite, ma voglia essere un nuovo paese, un nuovo paese nell'ambito mondiale, uno dei vari pesi nella futura distribuzione dell'economia nel mondo e sicuramente lo può essere anche perché l'India ha un'economia in forte crescita, più della Cina quest'anno e ha 1,4 miliardi di abitanti. Grazie e a presto.